La realtà territoriale è la più alta densità di popolazione, un milione e mezzo in una striscia di territorio, che è un vero e proprio campo di concentramento. Da qui bisogna partire, perché altrimenti non si capisce nulla di quello che è successo e sta succedendo a Gaza. Gaza è un campo di concentramento, da 22 mesi c'è l'embargo totale e quindi non entra, non esce nulla. Tutti gli osservatori dell'ONU che sono stati a Gaza hanno fatto relazioni, compresa l'ultima di Tony Blair, che denunciano e hanno denunciato la situazione di Gaza come una situazione intollerabile dal punto di vista dei diritti umani, dei diritti sanitari. L'intervento degli israeliani a Gaza è ridicolo, semplicemente ridicolo. Fa parte dell'ipocrisia imperante dire che si colpiscono degli obiettivi militari o si colpiscono. È impossibile. Gaza è un aggregato umano dove sono uno sopra l'altro, 50% sono bambini, c'è un'abitazione sopra l'altra. È indistinguibile una abitazione da una moschea, da una struttura di altra natura e quindi siamo di fronte ad un vero e proprio massacro. Da Gaza cosa succederà? Un intervento di questa natura, un intervento che comunque vada a finire l'azione in atto degli israeliani, si porterà dietro una striscia di terrorismo e di sviluppo del terrorismo, che è esattamente il contrario degli obiettivi che vengono proposti, che è quello dell'attacco contro Hamas. Il giudizio del problema non è il giudizio su Hamas. Il giudizio su Hamas è totalmente negativo, ma non è questa la questione, perché Hamas ha comunque vinto le elezioni, elezioni considerate da tutti i regolari, a partire dagli osservatori internazionali presenti a quelle elezioni. Se si vuole sconfiggere Hamas bisogna fare esattamente l'opposto di quello che si sta facendo. Ammazzando bambini e civili si rafforza e si rafforzerà Hamas nei paesi arabi, nelle popolazioni arabi. Da cosa nasce del resto Hamas? Perché il popolo palestinese è sempre stato l'unico popolo guardato con grande interesse, perché è l'unico popolo laico. Poi è sorta invece Hamas e ha raggiunto, per una semplice ragione, per una semplice ragione che il popolo palestinese non ha mai trovato una sponda nell'Europa per una soluzione del problema palestinese che fosse fondata su due popoli e due stati. Hamas il suo consenso popolare l'ha costruito su questo. Lo Stato sociale a Gaza, cioè gli asili nido per capirci, le scuole materne, sono tutte gestite dalla struttura di Hamas. Mentre purtroppo il Fatah è stato oggetto di un processo di corruzione dilagante e questo ha determinato una situazione che oggi ha portato a queste condizioni di massacro. L'Europa ha una grande responsabilità. L'Europa ha la responsabilità di cominciare anche con Israele ad avere un atteggiamento fermo. Non è possibile che Israele, anche in questi giorni, abbia rifiutato che dei medici possano entrare a Gaza. Ha rifiutato che degli osservatori internazionali possano entrare a Gaza per vedere che cosa sta succedendo. Non è possibile che Israele possa pensare di fare quello che gli pare con la comunità internazionale che accetta qualsiasi condizioni. Stiamo parlando di cose banali. L'altro giorno sono usciti, hanno fatto uscire gli stranieri che sono a Gaza, ma hanno impedito agli infermieri e ai medici volontari di entrare a Gaza e hanno impedito anche agli osservatori internazionali per poter andare a Gaza e dire al mondo, come testimoni, di quello che sta succedendo su quel territorio. Ma qualcuno pensa che quei bambini che crescono in questa situazione, oltre ad essere traumatizzati, ma è possibile che non si capisca che avranno una carica d'odio e porteranno dietro una carica d'odio che avrà inevitabilmente anche delle conseguenze di carattere generale. Se a uno gli uccidono tre fratellini o quattro fratellini e cresce in quella situazione, ma come dopo qualcuno gli spiega che non deve fare, allora andare a bombardare, massacrare civili e bambini, io la dico così, non distingo tra guerra, in quel caso è puro terrorismo, è puro terrorismo come quello che fa saltare un autobus dove ci sono dei bambini e dei civili. Agire così è terrorismo. C'è l'oscuramento rispetto anche dal punto di vista delle immagini di quello che sta succedendo, quello che sta succedendo nei territori. C'è un asservimento, io dico che oramai c'è proprio una assofazione terribile, che dal punto di vista dell'informazione, come dire, ma non si può quando si parla di vite umane, di bambini, eccetera, parlare di effetti collaterali come se fossero delle questioni tecniche. Mi ricordo un episodio tra le tante visite che ho fatto in Palestina, quel ragazzo volontario di Roma che è stato assassinato a Betlemme da una coltellata di un giovane palestinese, in modo incomprensibile, assurdo, eccetera. Poi abbiamo scoperto quando i due genitori si sono incontrati, i due genitori che si sono incontrati, questo ragazzo aveva 17 anni, era di Genin, gli avevano ucciso due giorni prima quattro fratellini, quattro fratellini con un bombardamento israeliano, si è preso su da Genin con un coltello e è venuto giù a Betlemme, il primo che ha incontrato lo ha coltellato. In questo caso era un nostro amico volontario che lavorava a Betlemme. E l'incontro tra i due genitori, lascio immaginare un incontro drammatico, che però sta ad esprimere che o viene spezzata questa catena o altrimenti la carica d'odio che si crea continuerà ad alimentarsi all'infinito.